Proprio adesso stanno emergendo ritrovamenti in tutti i posti di questo territorio, ultimamente qui a San Salvo, ma guardate che cosa un sansalvese, il nostro amico Antonino Vicoli, riuscito a trovare, ha trovato, non da noi, ma dove? A Palmoli. I miei consuoceri buttando a terra una casetta vecchissima hanno trovato tra i ruderi questa pietra che contiene delle conchiglie marine a Palmoli, che si suppone abbia almeno parecchi migliaia di anni. E' stata mia curiosità e anche mia passione recuperarlo e portarlo nella sua sede per poterlo portare a conoscenza anche di chi è appassionato di questi ritrovamenti. Quindi gli storici o gli amici che sono appassionati, come dice Antonino, che ci seguono, vogliono occuparsene, verificare e allimete datarla, possono rivolgersi a noi che provvederemo a metterli in contatto con Antonino. Qualche altra cosa? E' anche mia premura e mia curiosità a vedere quanti anni ha questo fossile e quindi vorrei farlo analizzare e se qualcuno ha da consigliarmi dove, io mi propongo per poterlo portare.